La nostra azienda è da 30 anni nel mondo della detergenza, siamo nati come nel mondo del confezionato e da 7 anni abbiamo creato e stiamo progettando e portando avanti questo nuovo format della detersiva alla spina. Noi in fiera, qui a Energimenti, presentiamo una doppia tipologia di format per i nostri punti vendita con lo spillatore oppure con la spillatura accaduta. Quindi abbiamo due format, quello automatico e quello accaduta. Cosa portiamo qui in fiera? Portiamo l'ecologia, come è il claim anche di Energimenti, cioè risparmio sul flacone perché la nostra massaia, il nostro utente finale, viene nel nostro punto vendita, porta il suo flacone che potrebbe essere anche quello di altri brand, viene etichettato, può essere anche il flacone dell'acqua ma anche un flacone che per la prima volta acquista nel nostro punto vendita ma poi viene ricaricato nelle volte successive. Quindi con il nostro brand stiamo cercando di creare e abbiamo creato, abbiamo distrutto il ciclo della plastica quindi non provociamo né la nascita ma neanche la morte del flacone. Grazie. Grazie.